Si chiama La Conquista dell'Imperfezione, è uscito per Solferino Editore il 24 novembre, è il libro di Carlotta Giancane che ci racconta la sua esperienza di vita e il suo Imperfetta Project, una storia bellissima che siamo felicissimi di condividere con voi proprio con la diretta protagonista. Ciao Carlotta, buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno e complimenti anche per questo titolo, non so se c'è lo zampino di qualche editor, però è meraviglioso. No, l'unica editor sono io. Anche perché, ecco, Carlotta può insegnare. Tanta casa editrice, poteva anche essere. Carlotta può insegnare, è vero Carlotta, raccontaci un po' di te prima di arrivare anche a lì. Sicuramente è stato un percorso importante che abbiamo fatto insieme appunto alla casa editrice durante tutto quest'anno passato. Il progetto è nato nel 2021, 20-21 diciamo, durante la pandemia, in un periodo molto delicato in cui tutti noi abbiamo avuto certamente un po' più di tempo per soffermarsi e riflettere su tante cose. Nello specifico, diciamo, la mia è stata proprio un desiderio di voler raccontare delle storie controcorrente. Non sentendomi io in prima persona ispirata dalle immagini stereotipate che di solito ci vengono proposte da moda in media. Per cui ho proprio sentito il bisogno di raccontare delle storie diverse di donne. Inizialmente il progetto aveva un taglio femminile, ma oggi coinvolge tutti a 360 gradi. Quindi ho iniziato a raccontare queste storie di straordinaria imperfezione pubblicando delle foto di donne straordinariamente imperfette, le chiamavo io, nel senso che donne normalissime con delle imperfezioni che poi accomunano tutti quanti, perché siamo tutti imperfetti per Costituzione, raccontando anche le loro storie. Così piano piano mi sono resa conto che il progetto suscitava sempre più interesse, che molte donne avevano un desiderio fortissimo di raccontarsi. Quindi ho iniziato a ricevere delle email continuamente di donne che volevano raccontare la propria storia. Così è nata proprio una community. Era un'idea, un progetto, è nata proprio una community. E poi ancora l'evoluzione successiva è stata quella in agenzia di moda, perché mi sono chiesta a un certo punto, probabilmente non è più sufficiente raccontare storie, come posso veramente contribuire al cambiamento. Così ho iniziato proprio a bussare la porta di brand e aziende per proporre questi profili diversi, donne ambasciatrici della vita reale, con corpi conformi e non conformi, quindi diversi a 360 gradi, in modo tale che tutte noi donne potessimo vedere o comunque sentirci rappresentate da questi corpi mentre guardiamo la tv sedute sul nostro divano, oppure quando andiamo al cinema, sui social, quindi attraverso campagne di sensibilizzazione, attraverso i social media che sono certamente il canale che ci influenza di più. Così l'agenzia di moda ha preso piede, all'inizio è stato un po' difficile, perché questi talenti ovviamente sono dei talenti diversi da quelli che ci aspettiamo, e infatti per questa ragione io le chiamo muse, muse perché non sono dei manichini, cioè non sono dei corpi che vestono degli abiti e li presentano al mondo, ma fanno proprio parte della produzione creativa, cioè ne modificano quasi il contenuto, associandola alla propria storia. Storie vere di persone vere, complimenti veramente per il grande coraggio che hai avuto per realizzare e portare avanti questo progetto di assoluta rottura rispetto agli stereotipi che conosciamo, caro Tony, oggi mi hai fatto un regalo, faccio parte anch'io di quella categoria evidentemente, facciamo parte tutti in realtà, ecco infatti, a chi lo dici, io con questo profilo siriano che mi ritrovo. No, ma dicevo a proposito di rompere gli schemi, appunto lui è in onda, non con una collega diciamo particolarmente adatta alla tv in questo senso, però volevo chiedere il passo successivo, cioè veramente andare oltre la visione del difetto e quindi vedere la persona proprio astratta da tutti, il passo successivo, quando si farà? Allora, quello sicuramente è una strada complessa su cui stiamo lavorando, no? Anche con il libro abbiamo cercato insieme a Solferino appunto di proprio tracciare quasi la strada, no? Verso questa, verso questo obiettivo. Ovviamente deve essere un lavoro fatto da una rete, cioè da un network di realtà imperfetta, è sicuramente una di queste realtà che sta lavorando molto bene insieme ai media, moltissimo, perché anche grazie appunto a voi e alla visibilità che è data a questo progetto si riesce veramente a costruire qualcosa e poi l'obiettivo più difficile sarà quello di arrivare all'alta moda, che è sicuramente, perché con la fotografia e la pubblicità abbiamo raggiunto già un buon traguardo, perché anche la pubblicità, ecco, vedere una delle nostre talent con un corpo non conforme, tra virgolette, in una pubblicità di Linus che è Venonda sul canale 5, probabilmente due anni fa o tre anni fa non avrei mai creduto che potesse essere possibile, invece è accaduto, ma così Linus, così anche abbiamo fatto dei progetti con Sephora, questa è una ragazza che ha sfilato per Marco Rambaldi durante la Fashion Week, insomma, tante cose concrete sono state già fatte, ancora la strada è molto lunga, e però ecco, secondo me è un lavoro a più mani, quindi realtà come la nostra, realtà mediatiche, brand e aziende che si stanno rendendo conto di questa esigenza, potranno portare a veramente, no, a poter raccontare delle storie che vanno oltre i corpi. Certo, ma questo che state facendo è veramente fondamentale, io chiedevo non dal punto di vista già del risultato, ma proprio della tua impressione, della tua sensazione, dello spirito del tempo. Sì, perché lì bisogna veramente cambiare l'immaginario, bisogna rovesciare proprio gli schemi, come sappiamo in Italia è sempre un po' complesso, siamo un po' sempre gli ultimi che arrivano a rompere gli schemi, a cambiare proprio veramente l'immaginario collettivo. Credo che ancora ci vorrà un po' di tempo, cioè stiamo costruendo le basi adesso, ma quando le basi saranno poi solide, probabilmente riusciremo ad ottenere questo risultato. Ecco, bisogna continuare in perterriti, pieni di motivazione e di convinzione, come stai facendo tu su questa strada, sicuramente in rete, in sinergia, e attraverso tutti i canali, tutti i mezzi disponibili. Il libro, da questo punto di vista, quanto credi che possa aiutare in questa direzione? Allora, il libro è un canale importantissimo, perché così come diceva anche durante la presentazione a Milano giorni fa, con il libro veramente io ho sentito un filo diretto con il lettore, quasi come se non ci fosse il filtro delle pagine, perché ho immaginato che il mio lettore, mentre legge il libro, veramente sia da solo con se stesso, sono senza i soliti input che abbiamo normalmente sui social, eccetera. Quindi lì, veramente, secondo me, ognuno di noi si può prendere un momento per riflettere su tante cose che diamo per scontate e che ormai fanno talmente tanto parte delle nostre vite, anche quando diamo consigli non richiesti alle nostre amiche, ai tingiti i capelli, mangia di più, mangia di meno, sei troppo magra, sei troppo grossa. Tutti questi atteggiamenti che fanno parte del nostro quotidiano e che sono degli atteggiamenti inconsapevoli molto spesso che abbiamo, possono essere dannosi, quindi questo aspetto, così come tantissimi altri aspetti legati all'accettazione del corpo, al bullismo, al body shaming, alla skin positivity, alla body positivity, quindi trattiamo, tratto nel libro, veramente delle tematiche che sono molto molto attuali e molte volte quasi scontate su cui non abbiamo modo di riflettere, invece con il libro, secondo me, riesci proprio veramente a entrare dentro a determinati contesti, a riflettere e a dire cavolo, forse è successa anche a me questa cosa, non me ne ero resa conto, quindi magari interiorizzi di più. Grazie, grazie Carlotta, invitiamo tutti i nostri telespettatori, telespettatrici ad arricchire la propria libreria, le proprie letture con questo tuo libro, a seguirti, noi facciamo il tifo per te, perché quell'imperfezione, quell'imperfezione che fa rima con l'autenticità di ognuno di noi, ci sta molto a cuore e quindi la difendiamo a spada tratta. E sicuramente in libreria andrà bene il libro appunto, però voglio che diventi un long seller, magari con aggiornamenti. Sicuramente, o magari anche un documentario, una docu-serie, chissà, perché le immagini funzionano sempre meglio. Teniamoci in contatto, teniamoci in contatto. Noi ti facciamo tanti cari auguri, non solo per il tuo lavoro, per i tuoi progetti, ma anche per le imminenti festività natalizie, quindi con l'auspicio di risentirci presto. Anche a voi. E sempre quando hai bisogno di un'altra testimonial, io sono pronta. Volentieri. Sentiamoci. Ciao Carlotta. Grazie. Ciao Carlotta, grazie per la tua testimonianza. Noi restituiamo la linea alla regia, ci ritroviamo con gli aggiornamenti a cura di Paola Russo, tra pochissimo. Grazie. 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 Grazie.